Favorito nelle scommesse l'americano Hitzong dato a 1 e un quarto contro Birbone quotato a 1 e mezzo. Ma Hitzong ha subito deruso i suoi ammiratori rompendo in partenza. Ne ha approfittato Birbone il numero uno per andare in tetta. E dopo aver lasciato il comando al compagno di scudevia Agrio riprende la posizione d'avanguardia seguito da Zivellino. Sempre in testa i numeri uno, quattro e otto ma non sarà così all'ultima curva poiché Agrio esaurito il suo compito sarà riassorbito dagli inseguitori e Zivellino cederà improvvisamente. All'estale di Birbone si fa luce Gerlas il due ma ormai il traguardo è troppo vicino per minacciare il Morello trionfatore della serata. Il numero uno gli ha portato fortuna ma il cavallo ha saputo meritarsela e con lui se l'è meritata il suo bravo guidatore, Vivaldo Baldi, che ora riceve con la coppa uno schioccante abbraccio supplementare.